Gabriella Buontempo, presumibilmente figlia di Buontempo, quello detto Orpecora, fascista Pecora, è stata cornificata dal marito Bocchino che ha avuto una relazione con la Carfagna. L'afferma molto. Tutti, ormai l'hanno affermato tutti, quindi è dato per la sua parte. Questa è l'ultima notizia di gossip del quale ormai si può solo parlare in Italia perché si parla solo di un popolo di navigatori e di trombatori perché finora si era solo poeti, santi e navigatori. Berlusconi con Rubio è stato stabilito che ne ha fatte 13, l'hanno stabilito i giudicieri. Tra l'altro se risulterà dagli approfondimenti che l'ha fatte tutta in una notte vado a votarlo anch'io che non voto. Beh, in effetti, insomma, considerando l'età che ha, se quello che è stato affermato dalla Procura risultasse vero, dobbiamo fare complimenti da quel punto di vista lì, da un punto di vista maschile di virilità al nostro Presidente perché, insomma, mi sembrerebbe una cosa non da poco. Se si fa col sesso, guardi la faccia di Giussani, no, chi è quella della sinistra? Oh, chi è? Quello è il capo della sinistra. Bersani. Bersani. Ah, eh no, lì ti parla la voglia, eh. La faccia fuggi, adesso dicono, fuggire anche, ma la faccia da corridore o l'hai? No, 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 no. Ora mi sono preoccupato per questa Carfagna, porra donna, che stava per, lei sta con mezza Roma ora, eh? Sì, no. Prima uguale comunque con quell'altra. Io so da Rezzo, non lo so, me la darà a me? Mi dispiace, ora indipendentemente da me. Scusa, se io mi presento, dico, scusi, lei che è stata con mezza Roma, io che so da Rezzo. Non so che cosa ti rispondere. No, dimmi te, che si deve fare? No, essendo, purtroppo questo è il destino di tutte le belle donne, le donne che hanno un certo fascino, probabilmente della Rosi Bindi non lo direbbero, non l'avrebbero mai detto, una cosa del genere. È il prezzo che indubbiamente una bella donna impegnata in politica, con la mentalità di oggi, una mentalità ancora maschilista, deve pagare, anche perché le donne, una donna brutta che fa carriera la fa perché ha il cervello, una donna bella che fa carriera nella mentalità ancora tutta italiana la fa non perché è intelligente ma perché ha altri doti. Ecco, fin tanto che non elimineremo questa concezione, questa concezione che come puoi capire io non condivido assolutamente, è ovvio che un soggetto, una donna graziosa, femminile come la Carfagna, venga… Però c'è un dubbio perché la moglie di Bocchino dice che abbia spinto la Carfagna per avere i voti in campagna per entrare in una leadership politica e allora quando si approfitta di questo poi allora diventa approfittare del proprio fisico. Se questo è vero, perché dobbiamo sempre parlare al condizionale, se questo fosse vero indubbiamente non è una bella cosa, però dobbiamo essere anche molto realisti Leonardo, insomma finché c'è stato, da quando c'è il mondo per il potere, i soldi eccetera… Da quando c'è il mondo c'è la Carfagna e c'è il Bocchino soprattutto, no? No, insomma… Nel senso politico… Ecco, cioè te hai detto in maniera molto chiara quello che io stavo cercando di dire si festeggia domani l'Unità d'Italia con due giovani che presenteranno stasera, Bruno Vespa e Pippo Baudo, ora a te mi devi dire che esempio si dà veramente ai giovani. Beh, l'Unità d'Italia in effetti loro sono dei pilastri come età, ecco come età rappresentano bene l'Unità d'Italia. Non capisco che è anche il suo compleanno, 150esimo, Unità d'Italia che io non festeggerò e specificherò domani più approfonditamente nell'editoriale. Ti dico solo per sommi capi perché non festeggio, perché l'Italia non è unita da nulla, perché dal Cinquecento in cui è partita la lingua italiana, perché fino allora c'erano i vulgaris che sono oggi i dialetti, non siamo uniti in nulla, neanche nella lingua, perché i ragazzi di oggi scrivono con le k per evitare la cq, non sanno dove va l'accane, non sanno i congiuntivi, gli parli dell'Accademia della Crusca, pensano sia un mangimificio e quindi non vedo l'unità, non c'è unità politica, non c'è. Io sono per il ritorno al Gran Ducato di Toscana, però questo lo spiegherò domani. Anch'io dico la verità, sarei molto contenta se tornasse il Gran Ducato di Toscana, perché io sono italiana, però dico la verità, prima mi sento Toscana e poi italiana. Dio che donna meravigliosa, beato quel soldini che la sbinoccola. Zitti, zitti, arrivederci, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao.